Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie Rivoli Narrativi. Se non mi conosci, vai a vedere il primo video che ho fatto su questo canale per capire più o meno di quello di cui voglio parlare. Voglio parlare di scrittura, voglio essere uno scrittore, cosa che ho desiderato sin da bambino, o meglio desiderato. È quello che sentivo far parte di me, quindi il voler scrivere storie, raccontare storie. E lo sto facendo piano piano, cercando di studiare, prima di tutto, e di conoscere a fondo le tecniche di scrittura e soprattutto quello che c'è dietro. Dietro c'è la mentalità, la mentalità dello scrittore. Il volere essere scrittore, prima era il voler essere il miglior scrittore del mondo, quindi le storie originali che uno scrive e che sono uniche nel genere. Il tuo libro in libreria e quello viene visto dai tuoi fan, dai tuoi lettori. Cosa che ho capito ovviamente non essere così. Forse, forse arriverà un giorno, se mai arriverà. L'importante però è, step by step, crearsi un modo di essere scrittore. Quindi quello che voglio fare in questo momento è raccontarmi, raccontare le storie e scavare a fondo su quello che è il mestiere dello scrittore. Che probabilmente la cosa principale va sempre sotto la branca della psicologia, cosa che a me piace moltissimo. Psicologia, spiritualità, vorrei collegare le due cose e renderle diciamo non unite ma diciamo questi due mondi che vanno in parallelo cercare di trovare i punti di contatto. Allora, oggi voglio parlare di un manuale che in realtà non è un vero e proprio manuale, ma è questo. Jack London, pronto soccorso per scrittori esordienti. Quello che praticamente ho trovato in questo libretto piccolino, come vedete è piccolino, si legge diciamo molto pratico, praticamente è proprio veramente la mentalità dello scrittore. cioè lui, vissuto nel 1800, quando è nato? 1876 e morto nel 1916, già negli anni 70 dell'800, praticamente lui già parlava di questioni mentali che sono ancora attuali, cose di adesso, cose che ovviamente sono cambiate nel tempo, il modo di essere uno scrittore ovviamente, ma quello che è passato, che ha passato lui, si ripete nel tempo anche agli scrittori di oggi, quello che sono stati loro. E questa è una sferzata, è un pugno in faccia a chi crede che fare lo scrittore sia appunto a parte semplice, ma che sia essere famoso o comunque, capito, avere l'originalità, la storia. Questo è un pugno in faccia, ve lo consiglio veramente perché quello di cui parla appunto sono sferzate anche a autori, a piccoli scrittori che mandavano a lui delle lettere e lui rispondeva in una maniera assurda, fighissima, che magari ne leggiamo una di queste. Leggerò la prima parte di questo nel podcast su Spreaker, quindi metterò il link qui sotto per il podcast appunto della lettura della prima parte. Quindi se vi interessa, se pensate sia appunto una lettura che vi può interessare, insomma lo comprate. Praticamente i punti salienti del discorso di Jack London e della mentalità che deve avere uno scrittore si possono racchiudere in dei punti che mi sono segnato e che sono gli stessi che poi ritrovo assolutamente in tutti i manuali che vado a studiare e nel corso di scrittura soprattutto che sono andato a studiare, che è il corso di scrittura creativa di Agenzia Duca. Vi metterò il link anche di quello se siete interessati. C'è un manuale base sulla scrittura proprio di questo corso. E i punti appunto sono questi qua. Tu non sei speciale. Allora, bisogna mettersi in testa ovviamente che anche bisogna mettersi in testa, scusate, mi sono un attimo bloccato, che tu come persona non sei nulla, non sei speciale, non sei veramente un essere talentuoso, perché c'è il mito di questo famoso talento, che c'è la persona col talento, cosa che si è scoperta poi non esistere, o meglio, ognuno di noi ha delle predisposizioni che possono essere genetiche o quant'altro, ma queste vanno studiate, vanno sempre, diciamo, registrate, quindi ripetute, in modo immersivo, per far sì che tu diventi quel tipo di persona. Ecco dove sta il talento. In realtà, più che talento, è una questione di ripetizione e essere la persona che vuoi diventare. Discorsi molto, appunto, psicologici che porterò più avanti nel canale. Comunque, tu non sei speciale. Ok. Il talento non esiste. Appunto, un altro punto, cioè quello che dicevamo proprio. Anzi, c'è stato, per esempio, si dice spesso che il talento, appunto, perché, per dire Mozart, Mozart era talentuoso, aveva talento o qualsiasi altra cosa. Si scopera perché Mozart aveva l'orecchio assoluto. Per chi non lo sa, l'orecchio assoluto è il riconoscere la tonalità di una nota, di uno strumento, in quel caso il pianoforte, il clavicembalo, o quello che suonavano all'epoca, insomma. L'orecchio assoluto. Cosa che si è scoperto con un esperimento in Giappone, mi pare, riuscire a creare, da bambini piccolissimi, piccolissimi, riuscire a creare l'orecchio assoluto anche in bambini che non sapevano assolutamente cosa fosse la musica. Quindi, quando si parla, appunto, di queste questioni, ecco che poi interviene proprio questo, cioè il fatto di sperimentare e di capire che l'orecchio assoluto che aveva Mozart era perché il padre lo pistava da ragazzino, sin da piccolo, e gli faceva ripetere le stesse cose tutti i giorni, tutto il giorno, anche con, diciamo, con violenza, ma questo ha fatto sì che Mozart è diventato Mozart. Comunque, vabbè, ovviamente nessuno vuole diventare Mozart in questo modo, però, ho anche un altro esempio, Agassi, ho letto il libro di Agassi anni fa, insomma, in cui lui racconta la sua storia che lui odiava il tennis, lui odia il tennis, ma è un fenomeno, è diventato un fenomeno perché racconta proprio che il padre lo faceva allenare sempre, tutti i giorni, in maniera estenuante. Quindi lui è diventato un fenomeno proprio perché ripetendo sempre gli stessi movimenti, sempre la stessa questione, tutto il giorno, tutti i giorni, diventa un fenomeno. Cosa che Jack London fa, cioè, io adesso non so se Jack London è un fenomeno, della letteratura, perché, a dire la verità, io di Jack London non ho letto nulla. Ho letto, sto leggendo adesso, Strade, come si chiama? La strada, di Jack London, dove lui racconta praticamente la sua vita, quindi non è un romanzo, racconta della sua vita e di come lui abbia vissuto, di come lui abbia vissuto veramente in mezzo alla strada e di come questo l'abbia portato a vivere situazioni assurde. Ecco dove, nei video precedenti, parlevamo di conflitto, quindi anche lui aveva molto conflitto nella vita. Le storie si basano sul conflitto. Quando c'è tanto conflitto, diciamo che c'è sempre qualcosa, c'è un obiettivo che vuoi raggiungere e si contrasta questo obiettivo. Ecco dove sta, qualcuno te lo contrasta, magari anche te stesso, ecco dove sta il conflitto. E questo genera la storia, senza conflitto la storia è piatta. Jack London nella sua vita ha avuto un botto di conflitto, tantissimo conflitto, e lui ha fatto ripetizioni di scrittura, nel senso che ripeteva e quindi scriveva giorno e notte, ma per ore, 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 si esercitava al meglio, scriveva qualsiasi cosa, poesie, saggi, novelle, romanzi, storie, racconti, qualsiasi cosa, e quindi lui giorno dopo giorno si è allenato e ha creato se stesso come scrittore. Ecco dove, diciamo, è stato il suo il suo talento. Il talento se l'è creato. Se tu stai fermo giorno per giorno e non fai nulla, non fai lo step per diventare quella cosa, e lo sto dicendo anche a me stesso questo. Io sto facendo questi video proprio per sbloccare anche questa parte, per cercare di seguire questi step, questi gradini che mi porteranno a voler essere appunto uno scrittore, a scrivere. Sempre una questione di mentalità, di psicologia. E quindi, se tu non fai il primo passo, non puoi diventare nulla, non puoi stare a rimuginare sul divano o dentro al letto, vedere la la serie tv del momento, sta sui social, qualsiasi cosa, alla fine ti giri e ti dici che ho fatto, niente. Infatti, che cosa sei? Niente. Quindi ecco dove sta il cambiamento. Il cambiamento è trovare, scavare dentro se stessi, osservarsi, anche attraverso la meditazione, osservarsi dall'esterno, capire che cosa sei, chi sei e che cosa vuoi diventare. Per fare questo richiede un gradino. Tu non devi vedere mai la gratificazione istantanea di quello che appunto tu fai, ma è sempre una gratificazione che verrà poi lontano. Tutto quello che siamo in realtà lo fai con quello che hai fatto dieci anni fa. Ho fatto teatro per anni, io ho cominciato a quindici anni a fare teatro. All'inizio ero, ho sempre fatto teatro amatoriale, ovviamente non in modo professionale, però diciamo negli anni, da quando ho iniziato quindi a fare teatro, quando avevo quindici anni a quando sono arrivato ai trenta, c'è stato un miglioramento in tutto. Facevamo prettamente musical, anche recitazione, a quindici anni non sapevo né cantare né ballare né recitare. Ti butti, io non sapendo minimamente nemmeno questi argomenti, la strada che ho seguito in realtà è stata proprio quella, come tutti, come tutti quanti facciamo, quindi chi si lamenta, chi rimane sempre lì con l'arte del lamento, cosa che ho fatto, pure un video su questo argomento, il fatto di lamentarsi, il fatto di stare lì e rimuginare, e ripetersi sempre a se stessi che il mondo è una merda, che la vita è una merda, che quello è una merda, cioè la vita che hai è ciò che ti sei creato con le tue abitudini e con quello che hai assorbito, con quello che sei stato e quello che sei adesso. Se vuoi diventare qualcosa, comincia adesso, parti, fai il primo passo, il primo passo, il secondo, il terzo, il quarto, e arriverai quando sarà il momento ad essere quello che vuoi essere, senza pretendere di essere qualcosa subito, immediatamente, ma facendolo piano piano. È l'unico modo che esiste per vivere una vita felice. Stop! non esistono altri mezzi. Quindi Jack London, Jack London, senza magari nemmeno capirlo e quindi gettandosi nella mischia, ha fatto proprio questo. Studiare branche diverse. Quello che lui, diciamo, consiglia, ovviamente, è non essere fermo, posizionato su un solo argomento, ma guardare tutto che dice a un certo punto, c'è un punto in cui dice, lui praticamente la chiama la filosofia operativa. Quindi per lui la filosofia della vita o la filosofia di quello che sei la chiama filosofia operativa. Allora, eccolo qua. Dice, lo stesso vale per te, devi studiare, devi arrivare a interpretare il volto della vita con intelligenza. Per comprendere le caratteristiche e le fasi di qualsiasi cambiamento, devi conoscere lo spirito che induce all'azione gli individui e i popoli, che dà vita e impulso alle grandi idee, che fa impiccare un John Brown o crocifiggere un messia. Devi toccare con mano il pulsare più profondo delle cose e la somma di tutto questo sarà la tua filosofia operativa con la quale in seguito misurerai, soppeserai, valuterai e interpreterai il mondo. In poche parole quello che dice lui è semplicemente appunto questo, cioè studiare, studiare il mondo intorno a te, qualsiasi ambito, qualsiasi... Poi intanto lo leggerò sul podcast, quindi sentite perché c'è proprio questa parte che è veramente bella, veramente bella. Comunque, studiare branche diverse, cosa che tutti quanti ovviamente consigliano in qualsiasi corso, in qualsiasi questione di qualsiasi ambito, ti dicono sempre di studiare a 360 gradi anche apparentemente argomenti che non c'entrano a nulla. Io sto studiando scrittura, allo stesso tempo sto studiando psicologia, sto studiando tutte le tra virgolette le neuroscienze, le anche cose spirituali, mistiche che non c'entrano apparentemente nulla con quello di cui magari può parlare la psicologia, ma è qui che invece convergono le questioni. E quindi poi saggi su qualsiasi cosa, puoi leggere veramente qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Non sprecare tempo, non sprecare tempo, un'altra delle cose importantissime che vengono studiate nell'ambito sempre della produttività, dell'eliminare la procrastinazione, più che eliminarla, farla tua amica e cercare di renderla tangibile e di razionalizzarla, perché la propria procrastinazione esisterà sempre, tu non potrai mai avere 365 giorni l'anno, la forza, la voglia, la volontà di fare quello che vuoi fare. Ecco perché esistono step by step delle cose da fare per far sì che tu aiuti più il tuo cervello a eliminare questa cosa di non volerlo fare. Se sentite i rumori, là ci sono i miei figli che stanno distruggendo casa, penso, prevedo. Comunque va bene. Non sprecare tempo. Uno si ripete sempre a se stesso io non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, non è vero. Il problema non è non avere tempo, il problema è sprecare il tempo che si ha per fare altre cose. Cosa che sto imparando? Sto imparando a fare questo, fare questi video, cercare di scrivere in determinati punti della mia giornata, non trovare scuse per esempio per la famiglia e quindi uno si fa prendere dalle questioni esterne o una famiglia o delle responsabilità o sono tutti pensieri irrazionali che fanno sì che tu sprechi tempo e quindi il tuo tempo in realtà lo puoi gestire in maniera consapevole e in maniera esatta facendo tabelle, creandoti un planner, io per esempio ho un planner settimanale dove mi segno ogni giorno quello che devo fare che sembra una cosa da malati ma in realtà questo aiuta ad organizzare meglio le tue giornate e aiuta a trasformarti in quello che vuoi essere. Vuoi fare un scrittore? Prendi il master planner. Altri punti che tocca scrivi di ciò che sai cosa che diceva anche Hemingway a proposito di Hemingway Hemingway è lo scrittore che ho inserito all'interno del mio romanzo Hemingway appare come figura come figura all'interno del romanzo che sto scrivendo e che ho quasi ultimato la seconda stesura se vi interessa parlavo di questo anche nei video precedenti due video precedenti fa insomma quando parlavo del fatto che ho scritto un romanzo in cinque anni e non l'ho portato mai a termine invece in un mese sono riuscito a fare la prima stesura del mio romanzo e adesso dopo sette mesi ho finito quasi la seconda stesura ci sarà anche una terza sicuramente una quarta insomma sto procedendo comunque cosa che non ho mai fatto ecco in un anno punto a chiudere il mio romanzo anche un anno forse più però insomma provenendo da uno scrivere un romanzo in cinque anni senza portarlo a termine perché era affazzonato perché fatto in modo diciamo fatto male pensato male progettato male scrivere un romanzo mi dà quella quella forza per continuare e capire che quei passi che ho fatto prima eccoli mi portano al risultato finale non devi pensare in quel momento a quei passi che stai facendo o meglio non devi pensare all'obiettivo futuro devi pensare a quello che stai facendo in quel momento per poi passo passo andare avanti parla anche del mostrare e non raccontare già lui in ovviamente nei suoi romanzi ripeto non li ho letti ho letto solo l'incipit di Zanna Bianca e comunque rispetto a tanti altri romanzi c'è molto mostrato e poco raccontato sicuramente ci sarà più raccontato rispetto a a quello che c'è magari nei romanzi moderni però insomma Jack London già prediligeva insieme a Hemingway per esempio più tardi il fatto di mostrare le scene quindi nel raccontare la storia non raccontarla quindi non essere un autore che si intromette e narra la vicenda ma tramite i personaggi mostrare quello che c'è sulla scena quello che deve essere appunto mostrato per capire l'ambientazione per capire tutta la storia lui già ne parlava appunto poi altri punti altri punti la questione del nome per esempio qua parla di come farsi un nome se non sei nessuno cioè tu sei un autore emergente ci sono tanti scrittori che scrivono sulle riviste scrivono romanzi che sono conosciuti come farti un nome e lui ti dà diciamo degli appunti per cui ti dice o scrivi un ottimo romanzo o scrivi per le riviste ok ma per scrivere un ottimo romanzo come si fa? come si fa? devi essere originale capito? ma per essere originale come devi fare? cioè lui in poche parole racconta se stesso racconta se stesso cosa che lui poi ha fatto con i suoi personaggi per esempio c'è come si chiama Martin Eden che è uno dei suoi personaggi dei suoi romanzi in poche parole lui ricalca completamente il suo vissuto e infatti racconta proprio in questo libro lui racconta quello che ha passato lui e se lo vai a rileggere nelle storie di Martin Eden è precisamente quello che ha fatto lui praticamente lui ha cambiato vita decine di volte sin da piccolo insomma appunto vivendo nella povertà più assoluta si è dovuto arrabbattare e faceva il no il pirata il il corsaro il corsaro nel pescare le perle a largo insomma dell'oceano adesso non ricordo dove e ha cominciato poi a fare a cercare l'oro a cercare l'oro nel Klondike poi è ritornato spalava carbone e racconta degli aneddoti in cui lui praticamente scriveva a macchina c'era questa macchina da scrivere che era talmente pesante spingere i tasti che in poche parole quando si alzava dalla sessione di scrittura che faceva che per lui duravano pure 19 ore era capace di scrivere per 19 ore filate senza dormire mangiare niente si alzava con dei dolori alle spalle alla schiena assurdi cosa che pensandolo adesso con i nostri computerini che stai lì col tastino stai col mausetto stai con la tua tazza di tè stai con la tua pennina lui stava lì a sbatte sti tasti di questa insomma macchina da scrivere eppure è diventato appunto John London Jack London si John Jack London poi parla di una cosa oltretutto importante sempre che per la mentalità che è una mentalità poi per lo scrittore ma è una mentalità per la vita che i soldi non sono il male cioè lui dice dice che ovviamente esistono due tipi di scrittori c'è lo scrittore che vive in un mondo per cui il suo scrivere a lui basta quindi a lui basta scrivere perché vuole veramente donare qualcosa al mondo e quindi dare qualcosa senza incontraccambio nulla e quelli ci si contano sulla punta delle mani sulla punta delle dita sono pochi invece per noi ci si mette in mezzo pure lui per noi che siamo terra terra tra virgolette i soldi sono la nostra il nostro obiettivo cioè nel senso che io voglio campare di scrittura campare di scrittura significa appunto farsi pagare per quel che uno produce e quindi fa tutta una disamina su questa cosa è divertente molto divertente più avanti poi ci sono appunto le trovare il modo di farsi pubblicare quindi lui ti spiega ovviamente questo è datato del 1800 1900 ma diciamo che anche adesso più o meno sono cambiate molte cose quindi ci sono modi diversi per farsi pubblicare per autopubblicarsi quindi diciamo su questo ovviamente non c'è molta contemporaneità però è interessante leggere come all'epoca c'erano questi problemi e come quello che cioè il problema principale era se tu volevi scrivere su delle riviste ovviamente il direttore editoriale non è che stava a vedere tanto il contenuto di quello che scrivevi sì quello passava ma in realtà quello che vedeva erano gli inserzionisti cioè gli inserzionisti pagavano ovviamente per farsi fare pubblicità su quella rivista e se quei racconti erano piaciuti a chi leggeva quella rivista ecco che il direttore editoriale ti pubblicava però per far vedere se piacevano questi racconti era già un mercato sotto e quindi tu già dovevi conoscere il mercato sotto e quindi eccolo che ritorna sempre lo stessa cosa che c'è anche adesso conoscere il proprio obiettivo il proprio target la propria strada editoriale per capire appunto quali sono i gusti il genere di cui ti vuoi occupare compagnia cantante ci sono poi delle letterine qua ci sono sempre consigli su come farsi pubblicare allora storia di london dei suoi mille lavori mentre scriveva qua racconta appunto quello che faceva e quindi tutta la sua vita passata appunto a far spalare carbone a cercare l'oro cercare l'oro che ovviamente fu una cosa devastante per tutti c'è questa c'è questa storia appunto dell'epoca in cui tutti improvvisamente andavano a cercare l'oro praticamente si è capito che l'oro non esisteva veramente non c'erano stifiloni d'oro chi è che ha fatto i soldi erano principalmente chi è che vendeva ai cercatori d'oro le pale o comunque i piccoli o comunque tutte le attrezzature per andare a cercare l'oro cose che poi non trovarono mai quindi non lo dice qua questa cosa che ho detto però insomma ecco una cosa che allora ci sono delle lettere che volevo leggere eccolo qua questo questo è proprio di mentalità alla caro amico Jess Dorman questa scritta nel 28 settembre 1913 quindi London era già era vicino alla sua morte tre anni prima quindi insomma era già fermato era già lo scrittore che era oggi caro amico Jess Dorman rispondo alla sua del 25 settembre 1913 dando per assunto cito le sue parole che lei ha in mente un racconto originale e virile che è in grado di scriverlo direi che se lei lo scrivesse al ritmo di mille parole al giorno e lo vendesse come autore autore sconosciuto a un prezzo da sconosciuto che sarebbe almeno due centesimi per un racconto così virile originale è ben scritto ecco lascio che sia lei a fare i conti se lei guadagna più di 20 dollari al giorno allora lasci perdere se guadagna meno di 20 dollari al giorno scriva il suo racconto la prego di ricordare che sto rispondendo alla sua lettera tenendo conto delle rigidissime condizioni che mi ha descritto dato che come lei dice conosce la mia carriera saprà che ho lavorato per lunghi mesi 19 ore al giorno senza dormire e che ho venduto gran parte del mio materiale a 75 centesimi ogni 100 parole per racconti che non erano originali non erano virili non erano ben scritti mi sono impegnato a fondo e lei è capace di impegnarsi in questo modo per 19 ore al giorno lei dice che non può impegnarsi così tanto se è così beh lungi da me l'idea di consigliarle di affrontare un'attività del genere se lei pensa di poter saltare su senza un minimo di apprendistato e cominciare a costruire muri di mattoni con la stessa abilità di un muratore che ha 4 5 o 6 anni di esperienza se pensa di poter arrivare nella bottega di un maniscalco e ferrare 10 cavalli con la stessa abilità di uno che ha fatto 3, 4 o 5 anni di apprendistato a ferrare cavalli se pensa di poter arrivare a mettersi a inchiodare assi o a stendere l'intonaco o a impastare la calcina senza nessuna esperienza precedente meglio o altrettanto bene di quelli che hanno fatto i loro 3, 4 e 5 anni di apprendistato in breve se pensa che in un lavoro di gran lunga meglio pagato di questi vale a dire la scrittura lei possa riuscire bene al suo primo racconto ancora da scrivere un romanzo ancora da scrivere beh allora ragazzo mio si lanci nella mischia e io verrò a darle una pacca sulle spalle altro che il mondo intero la riempirà di lividi a forza di pacche sulle spalle perché se riesce a fare una cosa simile deve essere davvero un grande genio nel frattempo abbia un po' di pazienza e impari il mestiere se conosce la mia carriera sa che io sono una persona che va dritta al sodo e con lei sono andato dritto al sodo in questa lettera se è in grado di battere tutti noi altri senza fare nessun apprendistato faccia pure lungi da noi l'idea di dare le consiglie cordiali saluti Jack London ecco appunto il fatto di avere un obiettivo e di vedere già l'obiettivo già il fatto di la gratificazione il fatto che lo scrittore vuole la gratificazione il pane quotidiano dello scrittore è la riprova sociale uno dei pilastri del libro di Robert Cialdini le armi della persuasione la riprova sociale cioè tu vuoi scrivere per essere acclamato per essere famoso per essere qualcuno che ecco è lo scrittore che ha qualcosa da dire è arrivato quello che ha qualcosa da dire come se in millenni di mondo nessuno ha detto niente quindi ecco se uno vuole fare lo scrittore la mentalità deve stare un po' distante da questa cosa e già Jack London nel 1800 lo diceva in questo caso nel 1913 però insomma allora un altro un'altra lettera e chiudiamo vediamo se ce n'è una corta rieccoci rieccoci è partita niente ogni mezz'ora la macchinetta si stacca vabbè leggiamo altre due lettere e poi finiamo allora mia cara signorina Andersen a mio avviso per avere successo come scrittore sono necessarie in positivo tre cose in primo luogo lo studio e la conoscenza della letteratura che oggi viene prodotta e distribuita sul mercato in secondo luogo la conoscenza della vita in terzo luogo una filosofia operativa di vita in senso negativo direi che la migliore preparazione per uno scrittore sia rifiutare rigorosamente di accettare alla cieca i canoni dell'arte letteraria così come sono formulati dagli insegnanti di letteratura al liceo e dagli insegnanti di letteratura e di composizione all'università già qui lui vedeva che praticamente quello che ti insegnano all'università ovviamente non è nient'altro che la base veramente poi devi andare un po' all'esterno e seguire cose esterne comunque lo scrittore medio può dirsi fortunato e voglio dire lo scrittore di medio successo può dirsi fortunato se riesce a guadagnare tra i 1200 e i 2000 dollari l'anno molti autori di successo guadagnano con i loro scritti tra una cosa e l'altra fino a 20.000 dollari l'anno e ci sono autori anche se sono casi molto rari che ricavano dai loro scritti tra i 50.000 e i 75.000 dollari l'anno e alcuni degli scrittori di maggior successo nei loro anni di maggior successo sono arrivati a guadagnare fino a 100.000 o 200.000 dollari da parte mia ritengo che l'unico grande vantaggio particolare della professione di scrittore come mezzo di sostentamento sia che dà più libertà di quella che può avere una persona che si occupi di affari o di una qualsiasi altra professione l'ufficio e la ditta di uno scrittore sono sotto il suo cappello e lui può andare ovunque scrivere ovunque a seconda di come gli gira ringraziandola per la sua gentile lettera le invio cordiali saluti perfetto adesso leggiamo un'ultima lettera che parla praticamente di una ragazza 14enne che gli ha scritto chiedendogli un parere su quello che aveva scritto e questa è molto 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 carina perché la massacra 30 giugno 1916 lui è morto nel 1916 quindi ha scritto questa probabilmente 30 giugno poi è il giorno del mio compleanno quindi tornano sempre queste date strane vabbè il 30 giugno del 1916 lui ha scritto questa lettera ad Armin e a suo punto visto che la scritta del 30 giugno la prendo proprio per me e cara Armin dopo un lungo indugio per il quale imploro debitamente perdono ti rimando qui a Closi i manoscritti allora ti avevo avvisato di aspettarti da me un trattamento severo se avessi avuto modo di venirmi a trovare per un paio d'ore durante la tua ultima visita a Onolulu inoltre mi avevi dato il permesso di fare delle sottolineature sui tuoi manoscritti adesso sto a pensare che probabilmente lei gli ha scritto sta lettera prima di morire vabbè allora mi sono limitato a sottolineare le prime 14 pagine del manoscritto di Lionel Pendragon non ho approfondito le questioni di stile trattazione tono gusto gestione ho voluto evidenziare un unico difetto particolare il trattamento severo che ti ho preannunciato è legato a quest'unico difetto particolare che viene necessariamente prima di tutti gli altri aspetti più importanti nell'attività dello scrittore questo difetto particolare è la sciatteria non posso chiamarla in altro modo in questo caso nel tuo caso è totale completa assoluta e sfacciata non esiste direttore editoriale che leggerebbe cinque pagine di un qualsiasi manoscritto battuto a macchina con tanta sciatteria come sono stati battuti a macchina questi tuoi manoscritti nella mia vita ho letto svariate migliaia di manoscritti e di principianti ma non ne ho mai letto nessuno che fosse sciatto come il tuo una tale sciatteria fa capire a qualsiasi direttore editoriale con un'occhiata a un paio di pagine che tu non hai nessun rispetto sincero per la letteratura nessun desiderio sincero di scrivere letteratura che tu sei o di una stupidità senza limiti o di una sfacciataggine senza pari a presentare dei manoscritti battuti a macchina in modo tanto raffazzonato che insomma ti denunci da sola come grande sciattona ti prego di credere che ti voglio sempre bene per tutte le altre belle qualità ma l'affetto che ho per te non mitiga la severità della punizione che ti infliggo per quello che hai fatto se mai qualcuno ha meritato un simile castigo lo hai meritato tu presentandomi un dattilo scritto tanto orribile terrificante e spaventoso e il teste non ha altro da aggiungere con affetto Jack PS ad ogni modo dovresti proprio vergognarti boom pietra tombale cioè praticamente questa probabilmente è una delle ultime lettere che ha scritto a uno scrittore emergente o quello che era poi dopodiché è morto non so in che mese è morto di quell'anno e io penso che leggendo una lettera del genere tu che vuoi scrivere probabilmente o te impicchi con la corda o te butti da un ponte insomma perché vabbè comunque questo era il manuale di Jack London pronto soccorso per scrittori esordienti se vi interessa lo comprate mi metto il link qua sotto e niente secondo me qualsiasi scrittore lo deve leggere perché per una questione di mentalità oltre allo studiare ovviamente le basi psicologiche della mentalità di come funziona il cervello di quello che ti pare sentire a viva voce e quindi vedere con i propri occhi quello che gli scrittori affermati dicevano e come hanno vissuto quello che prima di diventare scrittori affermati secondo me anche questo è una parte insomma della conoscenza che uno deve avere quindi niente vi ringrazio per aver seguito questo video iscrivetevi al canale youtube alla pagina facebook instagram seguitemi anche sul podcast Spreaker vi ricordo che leggo la prima parte di questo pronto soccorso e niente ci vediamo alla prossima ciao